Cina. Recuperati due corpi da petroliera. Ansa. Roma. 14 gennaio e, affondata la petroliera iraniana che era entrata in collisione con un mercantile il 6 gennaio, con una successiva esplosione a bordo. Nel mar della Cina. Lo riferisce la BBC citando media cinesi. Si teme ora un disastro ambientale. La nave trasportava 136.000 tonnellate di petrolio ultraleggero. Ma le autorità cinesi assicurano che, non ci, una grossa chiazza, in mare. Poco fa l'Iran ha annunciato che non ci sono più speranze per i 29 marinai dispersi. Mentre tre corpi sono stati recuperati.